Per tutta la giornata la città di Barletta è interessata da controlli a tappeto contro il lavoro nero svolti dai carabinieri del comando provinciale di Bari in collaborazione con gli ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro di Bari. Dieci gruppi ispettivi misti hanno passato al setaccio 29 aziende del luogo su un totale di 105 lavoratori controllati, nove sono risultati in nero mentre ammontano a 17.000 euro le sanzioni amministrative errogate per violazioni varie in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. Quattro persone sono state denunciate a piede libero per violazioni di particolare gravità. A un'azienda sono stati a posto i sigilli per le gravi carenze riscontrate in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro. Durante i controlli è stato rintracciato e arrestato un cittadino cinese che deve scontare una condanna a cinque anni per una rapina commessa a Bologna nel 2010.